Buongiorno a tutti, Shen, ed eccoci su Penumbra, stavolta anche in compagnia di TheSami. Ciao a tutti ragazzi! Chi lo conosce bene, chi non lo conosce, lo conoscerà. Allora, ultima volta abbiamo davanti questa bellissima porta che non ci fa passare. Beh, prendi la carci. E' quello che sto prendendo con un divano. Lo prendo a divanate. Non funziona. Proviamo a vedere come Shen, dei videogamer, nickname Android Mythic, prova a sfondare la porta con un divano della... Della... come cazzo si chiama la marca dei divani? Eh, aspetta la... La... a sofà, no. No, no, che sofà. Che sofà, buono col sofà, non ce l'ho capito. Eh sì, com'è, c'è anche la pubblicità con la canzoncina. Eh, con Sabrina Ferilli, lì, tipo. Eh, appunto. Allora, mi pare di aver letto la nota che devo iniettarmi questa sostanza nelle vene. Ah, tipo come amnesia, che poi esce il mannaio là. Ok, sono... proprio adesso sono drogato, cioè tutto quanto è là, vista offuscata. Se prima... c'era il dubbio, se devo farlo. Allora, lo stopratore è là col pisello di fuori. Ok, il mio personaggio è svenuto, proprio svenuto. Ah, come in amnesia. Quando prendi... No, quello di amnesia svena ogni cinque secondi per ogni minima minchiata. Ecco il verso, eh. E c'è il mostro, non cazzo. No, comunque ho adorato quella mappa custom di amnesia, dove c'era anche i mostri di penombra. Era fantastica. Sì, l'ho visto, quello là... Che tipo, sei un drogato, non ci capisci un caso. No, cioè, io mi sono diventato la droga nella vena e la porta si è aperta. Non l'ho capito. Wow! Non l'ho capito. Misteri divini! Misteri misteriosi! C'è un pulsante, ho premuto il pulsante, non è successo niente. Ok. Allora. Una piccola criocamera, ok. Criocamera? Ah, la camera criogenica, dici. Dovrebbe essere, in teoria. Congelatore criogenico, appunto. E qua dentro non ci sta un cazzo. Un cassetto. Vuoto. Batterie. Vuoto. Ok, c'è una leva. Vuoto. Quando si tira una leva succede sempre qualcosa di buono. O di cattivo. Eh, no, perché esce il pisellone e che tu stupi. Eh, beh, se aperte la camera criogenica e passa una testa. Wow! Allora deve essere il pisellone. Ehm. Passa con queste cose... Ok, c'è una testa, io seguo via la testa. Devo pensare con lucidità. Cazzo, c'è una testa. Ah, ok, ho preso la testa. Come la testa di Agrippa. Ok, ho una testa. Credo sia la sua fine. Beh, inutile preoccuparsene ora. Ma che cazzo di frasi? Appunto, non ha molto senso. Anche quella lì del pisellone che casca al corpo. Che dice poi... Aspetta. Tipo una mano. Sì. Una cosa del genere. Aspetta com'era la frase. Sì, ma dicono un sacco di cazzate. Infatti, in tutti i giochi così, a sfondo, horror. Horror. Vabbè. Horror. Non è horror. Si può dire survival. Sì, appunto. Eh. Cioè, c'è sempre queste frasi a cazzo. Tipo in... Minchia. Fai gli scherzi. Ok, devo arrivare alla porta dove dovrei far vedere l'occhio della testa. O la testa dell'occhio. No. Sì. Cazzo sto dicendo. Io mi sento un coglione. Sto saltellando quella come un pirla. Salta, salta. Scende il video. Ma sono vent'altro. Vabbè. Allora, basso. Cianci e bande. Bande, cianci e cianci e bande. Sì. Adesso mi spieghi perché la porta che dovevo aprire è sparita. Non c'è più la porta. Eh. Andiamo a un mistero. Un mistero misterioso. Un mistero molto misterioso. Ma scusa, ma seriamente qua non c'era una porta. Ma non c'è più la porta. Allora. No, box. Trattino. Episodio. Mi giro la testa e non riesco a fare la maniglia dalla porta. Meglio provarci più tardi. Che cazzo vuol dire che... Sì, certo. Più tardi vai là. Uh, si apre. E ora scusate. C'è, ma almeno dicevo. Daniel. Vabbè. Prima di te, c'è il tizio nella mia testa che mi sta facendo gli scherzi. E non mi fa più vedere le porte. Eh beh, sì. Oh, è tornata la porta. Allora, com'era il titolo? Non me lo ricordo. Ah, come la voglio mai. Dovete like Uncle Clarence to take the steering wheel for a while? Ehm... Ah, no. Oh, che cazzo è successo? Come? Ok, eccoci. Scusate, è andato un piccolo crash. Che cazzo stai facendo? Come? Eh, sì, infatti. Parole senza senso. Esatto. Parole non senza. Ok, c'è uno di quei vasetti... ...del gelato. Dove si dovrebbe salvare, in teoria. Gelato, eh. Sì, sì. Del gelato. E cosa sono, allora? Tu li tocchi, li vedi tutto bianco. Uh, fico. Eh, allora è logico. È logico. Libri di natura. Se mi spieghi cosa me deve fregare dei libri della natura. Eh, deve studiare, poverino. C'ha quattro scienze, deve recuperare parecchio. C'avrà qualche esame ancora da completare. Ah, qualche cosa. Ok, andiamo avanti. C'è uno strano meccanismo che blocca la porta. Deve pure esserci un modo per aprirla. Eh, io che cazzo ne so? In questi casi, prendere il pc e sbatterlo dalla finestra. Fuori dalla finestra. Una copia di necromancer. What the fuck? Necro? Monster. Fisica e matematica. Oh, quello che odio. Sì, ma io ancora non ho capito che cazzo dovrei fare. Ah! Capita sempre che vadano a puttane quei personaggini. Alcuni libri di linguistica allogorati. Linguistica? Sì. Eh, con tutti i dialetti d'Italia. Ah, ma c'è un cassetto. Che cazzo l'ha visto? Due matite. Hmm, interessante. Un foglietto. Una coppia con sui treni scarabocchi. Non si legge. Ok, lasciamo un attimo il tizio che parla da solo. Come un ebbete. Bene, ho finito. Ok, il tizio ha finito di sparare minchiate. Credo. Come sempre, logicamente. Note. Minchiate su minchiate, minchiate su minchiate si forma un gioco. Esatto. Esatto. Allora. Cosa dovrò mai fare? No, 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 no. Non ho rotto il cranio. Uh. Scusate i miei scatti di happy eyes là un po' che. Buon, capitano. Ma continuate a vedere il video. Il bello è che in questo video stanno succedendo tipo un sacco di cose strane. Tipo io adesso sto parlando strano per tre motivi diversi. Uno perché ho sangue di naso. Appunto due, sto tenendo con un fazzoletto la narice chiusa. Appunto tre, o uso la mano per il mouse, o uso la mano per Wazd. Wazd. Guarda, ti faccio io, usiamo un programma che mi ha inventato il mio proprio zio. Ti metto la mano sul mouse e tu vai. Guarda, ehm. Il problema è che ti devi tagliare il cazzo. Eh, non è una cosa positiva, eh. Eh, sì. Oh, ce l'ho fatta arrivare a quest'opera, che culo. Ok. Chissà cos'è, è una specie di statua. Sembra un oggetto di antiquariato. E io, prima di fare sto salto, un altro aspetto è che mi si fermi sangue di naso. Ah. Sangue di naso, maledetto. Spero che anche voi abbiate l'allergia. Ok, prendiamo quella statuina. Yeeeh! Aia. Secondo te l'ho presa? Il sangue di naso? Oh sì, che cazzo vuol dire my food? No, devo prendere quella statuina. È una questione di principio. Le forest. Le forest. È un... Non ho senso. Bene, oggi giocheremo con i doppi sensi. Allora, ragazzi. Sapete che vi dico? Facciamo una piccola interruzione pubblicitaria. Perché col sangue di naso diventa un po' ricchino impossibile giocare. Quindi ci rivediamo. A breve. Ciao, ciao. Interruzione.